ragazzi voglio ricordare che oggi sul negozio oggetti si potrà riscattare gratuitamente questo piccone il piccone capitolo 1 quindi negozio oggetti affettatevi a comprarlo al costo di zero quindi gratuitamente se lo troverete nello shop potete guardare sul ps store potete prenderlo da lì e niente passiamo alla missione bella raga missione visita diversi luoghi indicati in una sola partita i luoghi sono 17 e vediamo se riusciamo a visitarli tutti potremmo farla comunque in accordo con con i compagni tra una squad prendersi ognuno una zona per dire e farsi ognuno la sua zona in modo da poterli visitare tutti adesso noi ci regoliamo in base alla chiusura della safe in modo che magari riusciamo a farla in una sola partita nel frattempo in singolo c'è un compagno che forse ha capito che sto facendo la missione quindi gg per lui si sa pure la missione sciallo si si mi sa proprio che l'ha capito adesso andiamo con la fortiglia comunque ragazzi molto probabilmente si può fare anche in singola basandoci basandoci sul cerchio della safe diciamo dove vedete che si chiude il cerchio visita tra le varie zone con l'elicottero finalmente per la mia gioia perché è stata lunga senza l'elicottero che è stata lunga senza l'elicottero ok anche la fortiglia già siamo fatta e passiamo a pantano ora passiamo a foresta che non ci conta non ci conta foresta andiamo più giù ok foresta ce l'ha contata ora andiamo a sia più e poi ci facciamo sabbie castello corallo e borgo quindi sabbie ok ok ora ci facciamo castello potremmo fare anche dominio bis e borgo vabbè ora ci facciamo dominio borgo che compagnia il compagnia è ancora qua ok ok andiamo giù a borgo giù a borgo no 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 si tranquilli si tranquilli fai attirato partita di santa pace di santa pace ok adesso facciamo rovina al lago siamo scesi ragazzi mi tengo il dubbio perché non mi ricordo se sono sceso al lago ok lago ci siamo scesi quindi le rovine le abbiamo fatte andiamo sta il dominio abbiamo fatto andiamo a moli ci puoi anche lasciare un piccolo spazio per moli e ci facciamo start foschi e poi alla fine scogliere missione non è niente di che ragazzi non è complicata basta prendersi l'elicottero in base alla chiusura della safe vedere le zone da battere quindi non bisogna neanche atterrare basta semplicemente passarci sopra sacra abbiamo fatta ok andiamo a scogliare no perché lo fai perché picconi ok ragazzi la missione è bella che è completata in una partita abbiamo girato 17 i 17 punti indicati ma la cosa più bella da vedere adesso cos'è? è vedere se lui mi uccide anche io voglio saperlo se mi uccide voglio vedere cosa fa io voglio saperlo se mi uccide come se mi uccide come se mi uccide non è vero Gigi comunque Ragazzi come vi dicevo prima spero che il video vi sia stato utile Bella raga alla prossima